madre ho finito è bellissimo è lui il personaggio principale questa sera lo vogliamo premiare con un premio che sicuramente lui farà molto piacere ma non te lo aspetta signori bossa detto super maco è il nome che dice non ti impianta così dopo da fare 200 foto qual è la fotografia il fotomontaggio che ti è piaciuto di più di quelli di Alberto Capone no come alcuno più bello più bello dove ti sei trovato meglio con il dittatore con la muletta con la muletta con la muletta allora è una premiazione vuol dire che che sei stato ligio a dovere se l'ho sapendo detto la bevanda che hai assaporato di cosa si rimane all'un dietro lo dici allora vai prendi foto che premia con la palletta eccola qua vecchio romanzo etichetta buco guardate l'etichetta che è stupenda metterla qui che quasi la bevo va bene avete l'etichetta non guardate l'etichetta grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.